È questo il treno per Berlino? Quando parto il treno? Quando arriva il treno a Berlino? Scusi, mi fa passare. Credo che questo sia il mio posto. Credo che lei sia seduta al mio posto. Dov'è il vagone letto? Il vagone letto è in coda al treno. E dov'è il vagone ristorante? In cima al treno. E dov'è il vagone ristorante? In cima al treno. Posso dormire sotto? Posso dormire sotto? Posso dormire al centro? Posso dormire al centro? Quando arriveremo alla frontiera? Quando arriveremo alla frontiera? Quanto dura il viaggio fino a Berlino? Quanto dura il viaggio fino a Berlino? È in ritardo il treno? È in ritardo il treno? È in ritardo il treno? Ci maitevi щось pocitate? Ha qualcosa da leggere? Ha qualcosa da leggere? Тут можна поїсти та попити? Si può avere qualcosa da mangiare e da bere? Si può avere qualcosa da mangiare e da bere? Mi potrebbe svegliare alle sette? Mi potrebbe svegliare alle sette?